volevo fare tino è finita la rubrica non facciamo più il mio cugino no no indovina perché perché è stato arrestato tuo cugino all'anno arrestato mio cugino non solo mio cugino pure l'amico di suo cugino erano in due una famiglia problematica e capi te lo ricordi quello che ha dato due volte la colmonopattino a tentare di rubare al bar no è un altro qualche data al bar a tentare di ricordi beh a un certo punto se cosa è successo tino quello ha scavalcato per andare nel gazebo del bar ed è scattato l'allarme perché il titolare ci aveva sul cellulare come si dà mandato è andato subito lì al bar ha mandato poi il materiale il video alla forza dell'ordine e quindi se cosa è successo mi viene da ridere perché adesso vuol che io vada a dargli una mano ma non andrò mai da una mano a mio cugino perché mi fa trovare sempre in difficoltà che si che cosa fa i marchi del giubbotto la fisionomia il cappello l'hanno beccato per strada esattamente come l'avevo si è proprio un cugino intelligente resta sempre mio cugino ti è comunque mio cugino e ho capito ma c'è la famiglia problematica e lo so comunque è già tu sei chi di problemi fino a qua alla cima non posso dire fino al cibo del casco il cuoio capelluto e quindi quando vi addentrate in un ambiente in un settore che non è il vostro cercate di utilizzare tutti gli escamotage no possibili perché altrimenti poi sia bezzo invece no perché se invece fai col giubbotto con la marca quel giubbotto e vai per strada subito dopo con quel giubbotto sapendo che le forze dell'ordine ti hanno individuato è chiaro che poi viene arrestato tutte e due tutti e due andavola col monopan e sono stati arrestati vabbè finisce qui la rubrica finisce qui la rubrica mio cugino vedremo se qualcuno vuole se qualcuno volesse prendere il suo posto ce lo dica perché siamo scarsi adesso a cugini pro cugino è bravo pro cugino